Domenica alle ore 15 il Città di Teramo affronterà in trasferta la Torrese, la gara si giocherà sul campo del Castelnuovo. Il Diavolo vuole continuare la fuga in vetta alla classifica e consolidare il distacco di otto punti sul Giulianova. La Torrese è sesta in classifica ai margini della zona playoff nel girone di ritorno e la terza squadra che ha fatto più punti dopo il Città di Teramo e il Ponte Vomano, collezionando 5 vittorie e 3 pareggi e una sola sconfitta contro il Sulmona, mentre in casa dall'inizio del torneo è quella che ha ottenuto più punti, 30 come il Giulianova. Sono 48 le reti complessivamente realizzate, 27 quelle subite. L'attaccante più pericoloso della Torrese è Dal Cason che ha realizzato 16 reti. Nelle file del Teramo per domani tornerà a disposizione il difensore Roberto Furlan dopo la squalifica. Anche Stefano Degidio ha recuperato dal problema l'adduttore. Resta in dubbio l'attaccante Santi Rocco. Dovrebbe esserci tra i convocati il capitano Alfonso Pepe, ma partirà dalla panchina. Per il giovane Scipioni si teme la rottura del legamento del ginocchio dopo la gara di Coppa Italia. Il giocatore è in attesa della risonanza magnetica. Al seguito della squadra per domani saranno circa 300 sostenitori biancorossi. La direzione di gara sarà affidata al signore Pasquale Mozzillo della sezione di Reggio Emilia.